Aspetta, io ti diria di fare cosa, tutti i governi ci ammette l'impegno di prendere i grandi macchinari, grandi compressori, muspe rosse, di addotare la cautela, di fare un bancone, per esempio, questa catena di montagna, tu pensi che è pericolosa, no? Sotto i stagli carburanti, il fuoco, il gas, roba ingentiaria che fa pressione, fa aiuto alla moto. Io ti direi una cosa, perché non fanno delle grosse spese e fanno delle trincelle, i banconi profondi, scavano, spiano, sfruttano o ci aprono, aiuto a me, ci aprono come una fonderia, come una struttano, ci ricavano petrolici, titroni carburanti, lo sfruttano e gli danno, la pressione non muade tanto più, o no? Grazie. Grazie. Grazie.